dei giudici un po' più alto, però si ritrova nella classifica indietro, perché per un gioco di classifica migliore per loro, magari c'è un primo posto e poi due terzi posti, si rischia di andare più avanti rispetto a una società che nel punteggio totale, quello dato veramente dai giudici, sono più avanti. Questo crea un po' di malcontento. Quindi anche tu che sei un giudice internazionale, qual è la tua proposta? Quella di cambiare questo regolamento, di modificarlo? Va bene così? Stanno provando per vedere se può essere più entusiasmante, non so se continuerà e se la federazione deciderà ancora di mantenerlo.